Faccio un minuto di ragionamento, perché questo è un tema molto serio. Allora, io senza che lui si arrabbi, devo dire che ho grande rispetto per il Presidente Pitella, perché lui, a differenza di tutti quelli come lui, che la pensano come lui su questo tema, dice la verità, e cioè tradisce quella che è la reale volontà di questo disegno sull'immigrazione. Allora, partiamo e chiamo insieme in fila tre cose. Abbiamo detto che sono potenzialmente milioni le persone che possono arrivare in Italia, perché noi non facciamo selezione di nessun tipo. Noi non selezioniamo, per esempio, i profughi rispetto a chi non ha diritti. Noi facciamo entrare tutti. Potenzialmente sono milioni. Non abbiamo i soldi per gestire questo fenomeno, che ci costa tantissimo, perché, ripeto, molto spesso per gli immigrati lo Stato riconosce delle risorse che per i poveri italiani non riconosce. Per intenderci, se io vivo in una macchina e chiedo allo Stato italiano, se mi dà una mano, lo Stato italiano non dà una cooperativa 37 euro e mezzo al giorno per tenermi in albergo, come fa per gli immigrati. Tutto questo potenzialmente, mentre leggiamo i dati che sono usciti quest'anno, 100.000 italiani nel 2015 sono scappati dall'Italia, è purtroppo un problema che riguarda anche la Basilicata, che a lei piaccia oppure no, perché la povertà aumenta, perché noi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini italiani. Itella ci dice giustamente che noi li vogliamo accogliere per renderli cittadini italiani, mentre i cittadini italiani scappano. Quindi il disegno, secondo me, e Pittella lo dice, è sostanzialmente un disegno di sostituzione etnica. Aggiungo un elemento. Io non posso pensare che tutte queste persone non si rendono conto di che cosa stanno facendo, quindi perché secondo me tutto questo piace a chi comanda al potere costituito? Io penso che alla base di tutto questo ci sia il tema dei diritti. Si dice spesso che gli immigrati in Italia servono perché fanno lavori che gli italiani non vogliono fare, ma questo è falso, gli immigrati li fanno a condizioni a cui gli italiani e gli europei spesso in generale non sono disposti a farlo. Quindi l'immigrazione incontrollata serve al grande capitale, perché il grande capitale la può usare per rivedere al ribasso, non solo per pagare meno la manodopera, ma anche per rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori italiani. Forza Pistella, lei si è pesa due minuti, è un tema, adesso mi si può dire che sono pazza, però oggettivamente questo è quello che accade dalla mattina alla sera. Allora io penso che la politica italiana dovrebbe prioritariamente difendere i cittadini italiani perché l'immigrazione non è un diritto, e poi con quello che avanza occuparsi di tutti gli altri, come fanno le nazioni di tutto il mondo. Pistella, a furia di professare il fai da te, noi diventeremo, diciamo così, vittime di un'occupazione, perché non saremo in grado di vincere con coraggio la strategia della paura e di affrontare fino in fondo le vere sfide del nuovo tempo. Gliela dico con uno spot. Ma come? Lei sa che 60 milioni di cittadini sono stati in movimento, in Italia sono arrivati meno del 3%, abbia pazienza. Le faccio il caso della mia regione, 1700 nel 2015 sono stati i cittadini che sono andati altrove, 1700. Ok, 1500 vanno via dalla Basilicata. Bene, io provo a far di tutto perché quei cittadini restino o tornino, utilizzando che cosa? No, gli strumenti, onorevole, gli strumenti che abbiamo a disposizione, quali sono? I fondi europei, gli attrezzi del mestiere, i fondi europei e il tentativo di far conoscere ai nostri giovani, soprattutto dopo diploma o dopo laurea, quali sono gli strumenti che l'Europa ci consegna? Quanti immigrati sono arrivati? Autoimpresa, 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 quanti ingrati ci sono? 2.000? E' calabà! Per fare il mio mestiere, Presidente, 1.500 se ne sono andati via dalla Basilicata, quanti immigrati sono arrivati? Ad oggi sono 2.240. Quando mi sono insediato, erano tra 5 e 600, sono arrivati e mi sembra, non so se ci sono interviste, mi sembra che la società lucana abbia interagito bene, abbia accresciuto il suo PIL nell'ultimo anno di 5,5 punti, sia la prima regione nel mezzogiorno d'Italia, al di là degli immigrati, se vuole, e non lo dico io, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, il 13% del PIL della regione Lazio dipende dagli immigrati, il 27% della regione Lombardia dipende dagli immigrati. Scusi, non da questi, che cosa sta dicendo? Abbia pietà, non confondiamo cose che non c'entrano a niente, parliamo di immigrati regolari, non di questi, scusi, che sta dicendo? Io non ho immigrati regolari, e parlo di immigrati regolari, le dico, in Basilicata il PIL è 0,3%, quello è gli immigrati. Questa è disinformazione, scusa, il PIL riguarda gli immigrati regolari, non è quello di cui stiamo parlando, mi scusi, ma che dici? Ma che dici le cose sensate?